Forza la mano! Presidente! 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 Oh, ciao Camillo, ciao! Presidente! Presidente! Che libini, eh? No, è il frutto del lavoro di tutto l'anno, questo Paglio. Devo ringraziare Capitano e tutta la commissione Paglio perché hanno trovato due persone che hanno lavorato esclusivamente per il rione. Questo lo dedico a tutti gli ex Presidenti, a tutto il popolo e a tutto il rione di Porta Romana che se lo meritava proprio. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Questo era il Presidente di Porta Romana! Oh! Su le mani! Su le mani cazzo! Su le mani! Grazie a tutti! Grazie a tutti!